Uno spettacolare incidente avvenuto questo pomeriggio poco prima delle ore 16, a pochi metri dall'ingresso del tunnel del Campiglione in direzione quarto. Protagonista una giovane donna, fortunatamente uscita in lesa dall'impatto. La giovane tra i 25 e i 30 anni stava percorrendo la galleria quando avrebbe perso il controllo dell'auto, una lancia Ypsilon, non riuscendo successivamente a dare una spiegazione. Forse un malore o un guasto all'auto a provocare lo sbandamento della vettura che probabilmente procedeva ad una velocità superiore al limite di marcia consentito. L'auto si è completamente ribaltata andando ad impattare contro il muro dell'opposta corsia di marcia. Soltanto per puro caso in quel momento nessuna vettura sopraggiungeva dall'altra parte, evitando il coinvolgimento di altre auto. Nonostante il forte trauma emotivo, la donna in Colum ha avuto la prontezza di uscire da sola dall'auto capovolta ed in evidente stato di shock che è stata immediatamente soccorsa dagli automobilisti che sopraggiungevano, stupefatti nel constatare che la malcapitata non aveva riportato neppure un graffio nell'incidente. Sul posto è comunque sopraggiunta un'ambulanza del 118, allertata dai soccorritori, che ha immediatamente accertato il buono stato di salute della ragazza. Sul posto anche i vigili del fuoco, gli agenti di Polizia Municipale di Quarto e una pattuglia dei carabinieri che ha effettuato i rilievi. Chiuso al traffico per un paio d'ore circa il tunnel di Monte Corvara, un tratto di strada che non è nuovo a incidenti di una certa gravità, complici la scarsa visibilità dovuta ad un'illuminazione carente e al cattivo funzionamento dell'impianto di aereazione, ma anche la velocità sostenuta con la quale le auto lo attraversano.